monitoraggio e mitigazione del rischio idrogeologico il progetto coinvolgerà anche il CNR e i ragazzi del Cardarelli. Frana di Montalbano verso una soluzione definitiva, Mori speriamo di rendere la via transitabile per la primavera. Celebrata oggi la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, un'occasione per ricordare Italamela. Partito il nuovo treno Frecciargento che collegherà in breve tempo Genova alla Spezia con la Capitale. Spezia Calcio per le Acquile arriva l'attaccante toscano Diego Fabbrini, Catellani ceduto invece a Lentella a titolo definitivo. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS giornale. Lo avete già sentito dai titoli, è stato presentato questa mattina in comune un progetto per il monitoraggio e la mitigazione del rischio idrogeologico che coinvolgerà anche il CNR e i ragazzi dell'Istituto Cardarelli. Saranno istituite le sentinelle del territorio che insieme all'installazione di sofisticate strumentazioni renderanno più sicura la città dalla collina sino al mare. Vediamo il servizio di Laura Ivani e Davide Morina. Sentinelle del territorio, sensori, allertamento differenziato e coinvolgimento delle scuole per un progetto contro il rischio idrogeologico che potrà essere esportato anche all'estero. È quanto ha messo a punto il comune della Spezia insieme a CNR e Istituto di Costruzione Ambiente e Territorio Cardarelli. Il progetto ha richiesto un finanziamento regionale dai fondi PORFESR 2014-2020 per 8 milioni, cui si aggiungerà un cofinanziamento comunale. Oggi con particolare orgoglio abbiamo presentato questo progetto che parte con una convenzione con il CNR per poter mitigare il rischio idrogeologico e cioè attivare nella nostra città tutta una serie di attività in grado di poter diminuire il rischio idrogeologico e dare quindi più compiutezza all'azione della protezione civile. Si attiveranno le cosiddette sentinelle del territorio attraverso una formazione coordinata dal professor Guzzetti ma non soltanto. Si attiveranno sensori piezometrici, delle attività tecnologiche importanti tese a capire come per esempio gli inclinometri, a capire per esempio il livello di movimento delle frane. Una volta individuato il livello di movimento delle frane, capire il gradiente di rischio, la velocità in cui si muove un versante per poter dare l'allarme attraverso questo sistema che abbiamo, un sistema di allettamento telefonico. Nel progetto coinvolti 150 ragazzi del triennio del Cardarelli. L'istituto ha ricevuto un finanziamento di 750 mila euro dal MIUR per l'allestimento di quattro laboratori tecnologicamente avanzati per una ricerca applicata ai rischi propri del territorio italiano. Fondamentale è l'apporto scientifico del CNR che vede in questo progetto un pacchetto per prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico esportabile in tutto il mondo. La ricerca prima o poi, come ho detto nella conferenza stampa, deve uscire dai propri laboratori, deve provare che funziona. Proviamo qui nel comune di Spezia, ma se funziona qui non ci sono motivi perché non debba funzionare in altri posti, in regioni Liguria, nelle regioni di Mitrofe, nel resto dell'Italia e anche in altri posti del mondo. Ma in che cosa consisterà concretamente l'apporto del CNR? In un primo momento faremo da supervisori delle attività che verranno svolte, faremo un po' di formazione alle sentinelle del territorio e poi, come dire, staremo vicini al comune e agli altri stakeholders per capire quali sono le loro esigenze e per provare a dare loro dei suggerimenti. E l'assessore Mori ha fatto il punto anche sulla frana di Montalbano, per la quale ci dovrebbero essere a breve novità per la risoluzione di un disagio che colpisce la popolazione di quella zona ormai da molti anni. Ancora Laura Ivani e Davide Morina. Parliamo della frana di Montalbano che da anni ormai insiste sul territorio. A che punto siamo? Ci sono stati fatti degli interventi e presto ci sarà una risoluzione della questione? Sì, diciamo che con questo progetto finanziato con i finanziamenti PORFESER noi abbiamo scelto di utilizzare i soldi per il rischio idrogeologico e per andare a intervenire nella parte della frana che ancora insiste, e cioè via Marconi, mentre via Montalbano, credo che l'asfaltatura, ancorché grezza, sia stata fatta in questi giorni, in primavera ci sarà l'asfaltatura completa, quindi la strada è completamente transitabile, via Marconi invece insiste ancora la frana, e lì c'è il progetto di una galleria, un percorso a galleria, una sorta di paramassi che possa permettere la riapertura della strada. Io spero che, insomma, il progetto c'è, il finanziamento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi da parte della Regione, e quindi i lavori potrà, speriamo che possano iniziare per l'estate, e restituire anche quel transito a quei cittadini. Proseguiamo con la cronaca. A seguito dell'intensificazione dei servizi istituzionali di controllo economico del territorio, disposta dal Comando Provinciale della Spezia, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sarzana hanno effettuato una serie di specifici interventi nelle zone nevralgiche della città. I servizi sono stati attuati anche mediante l'impiego di pattuglie in borghese, nonché dell'ausilio delle unità cinofile. I controlli hanno permesso di individuare due soggetti detentori di sostanze stupefacenti, opportunamente segnalati alla competente prefettura. I successivi riscontri di identificazione effettuati sui documenti hanno consentito di appurare inoltre la presenza di un soggetto di origini marocchine, privo del permesso di soggiorno necessario per essere regolare sul territorio nazionale. Gli interventi eseguiti rientrano tra i servizi di controllo economico del territorio, che contribuiscono all'ordine e sicurezza pubblica, implementati anche a seguito delle linee di intervento concordate con il Comune di Sarzana e le altre forze di polizia locali, al fine di contrastare ogni forma di criminalità economico-finanziaria e di traffico illecito. Nel ricordo di Italamela, ormai prossima alla beatificazione, si è celebrata questa mattina al monastero di Castellazzo la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La Santa Messa è stata ufficiata dal Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio, le interviste sono di Italo Lunghi, le immagini di Davide Morina. Ecco, oggi il tradizionale incontro con i giornalisti, la festa di San Francesco di Sales è stata ricordata la figura del Santo. Un Santo davvero particolare, una figura di riferimento. Sì, di particolare riferimento, sia per la sua dolcezza, sia per la sua chiarezza. E direi dolcezza e chiarezza vanno veramente di pari passo in una comunicazione autentica perché permettono di accogliere la notizia per quella che è in tutta la sua verità e nello stesso tempo di accoglierla in tutta la sua profondità. Ecco, lei ha tracciato la figura del Santo parlando di una persona molto chiara, di uno che non fa giri di parole, che arriva dritto al cuore del problema, nello stesso tempo è riuscito a conservare la verità dei fatti. Proprio un esempio per i giornalisti di oggi. Direi di sì, è una verità annunciata proprio per formare e di conseguenza per costruire e non per distruggere. E questo è un elemento molto importante nella comunicazione. Oggi ci siamo incontrati al monastero claustrale Benedettino di Santa Maria del Mare. Una occasione particolare che ci ha consentito anche di ricordare, una figura straordinaria per la nostra città. Certo, Italamela, quest'anno avremo la beatificazione, un dono grande di Dio e anche per tutta la città. Come sottolineavo appunto con l'incontro con i giornalisti, una figura che è passata un po' veramente da tutti gli stati possibili della propria esistenza, da un ateismo di fondo fino a incontrare la fede, fino a un desiderio monastico, per poi viverlo dentro al mondo in una consegrazione tutta particolare e anche in una consegrazione che si espressa anche nella sua professionalità tutta particolare, anche nell'insegnamento, come peraltro anche nell'impegno sociale con la Fucci. Ecco, queste sono figure veramente di alto livello, perché essendo così trasversali, veramente non lasciano nessun ospettatore, ognuno si sente coinvolto. È stata l'occasione anche per parlare di un concetto particolarmente complesso, ma poi allo stesso tempo neanche troppo complicato, l'inabitazione trinitaria. Certo, il dono che Dio veramente fa, non solo stanno con noi, ma volendo abitare dentro di noi, nell'anima in grazia, e questo è molto importante, per Italamela è stato un po' il luogo di riferimento, per cui lei pur non entrando in monastero, di fatto ha vissuto il suo monastero interiore. I giornalisti hanno avuto l'opportunità di visitare anche questo piccolo ma grazioso museo, un modo per conoscerla meglio. Decisamente, è una ricchezza per tutta la città, anzi invito tutti in qualche maniera a poterci veramente venire, perché vedere un po' quegli oggetti, che poi sono sereni, piccoli, se vogliamo, anche molto abitudinari, ma che ci richiamano a quella concretezza di un'esistenza, di cui abbiamo sempre bisogno, per rendere tangibile anche un cammino. Una raccomandazione a noi giornalisti nel giorno del Patrono? Beh, direi nel confronto di Italamela di veramente di far diventare notizia, no? Perché no, una notizia bella è un qualcosa di veramente grande, e poi sempre questa verità raccontata nella serenità e nell'autanticità. Cambiamo argomento, è stato siglato questa mattina l'accordo tra Regione Liguria, le organizzazioni dei medici e le organizzazioni sindacali, alla presenza dei referenti delle ASL Liguri, per l'avvio del progetto di apertura degli studi medici il sabato mattina in tutta la Liguria. L'accordo prevede la partenza del progetto sperimentale di apertura, che ha come obiettivo quello di diminuire l'afflusso al pronto soccorso della domanda impropria, che causa disfunzioni e criticità. L'intesa siglata questa mattina implica quindi l'apertura degli studi di medicina generale nella giornata di sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30. Il progetto aveva già preso il via con l'apertura di 13 studi medici sul territorio dell'ASL tregenovese. Con l'accordo di questa mattina si estende la sperimentazione a tutto il territorio regionale, con l'apertura di uno studio per ogni distretto. Intervengono i segretari CGL Cislewil della Liguria, Igor Magni, Paola Bavoso e Lella Trotta, in merito alle dichiarazioni del presidente della regione Giovanni Totti, rispetto all'obiettivo di privatizzare il 15% della sanità ligure. Dalla presentazione del Libro Bianco ad oggi, a quasi un anno di distanza, hanno detto, finalmente si legge chiaramente nelle parole del presidente quello che si sospettava da tempo. Il nuovo modello sanitario della Liguria clona il ricco modello Lombardo-Veneto, che poco si adatta alle condizioni liguri. Mentre di fatto si sta allogorando il servizio sanitario pubblico, non si assume il personale necessario e aumentano i dirigenti. Grazie ad un accordo tra regione Liguria e Trenitalia, da stamani è partito il nuovo Frecciargento, che collegherà in breve tempo Genova e La Spezia con la capitale. Il servizio potrebbe presto essere incrementato. Ma sentiamo l'intervista raccolta da Laura Ivani con le immagini di Davide Morina. È partito da questa mattina alle 7.44 il primo treno Frecciargento che collegherà Genova e La Spezia con Roma, in poco meno di quattro ore per quel che riguarda Genova. Una grande opportunità anche per La Spezia? Sicuramente una grande opportunità, perché questo significa collegare la nostra città, la nostra provincia, con Roma in meno di tre ore e anche con Firenze in un'ora e trenta. Quindi sia da un punto di vista lavorativo per chi deve effettuare spostamenti legati al punto lavoro, ma anche da un punto di vista turistico, che credo che possa rappresentare una grande opportunità per il nostro territorio. Quindi l'augurio e la speranza è che questo possa essere un servizio utilizzato dai cittadini. Tra l'altro da parte di Trenitalia c'è stata già la disponibilità a valutare eventualmente di anche raddoppiare questo servizio. Molto dipenderà ovviamente da quanto verrà utilizzato questo servizio, ma siamo convinti che la risposta sarà positiva. Dialogo avviato in questi mesi con Trenitalia, tra l'altro anche sulle questioni che riguardano il trasporto ferroviario alle cinque terre. Tra qualche mese sarà primavera e quindi ci sarà di nuovo il problema, per così dire, dell'aumento del traffico e dei turisti. Come affronterete la questione? Certamente la questione legata al trasporto ferroviario è una questione aperta, sulla quale noi come Regione abbiamo sempre dato la piena disponibilità nella consapevolezza che il nostro ruolo è quello di risolvere i problemi, quindi di metterci a disposizione del territorio cercando di dare le risposte a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Lo abbiamo fatto avviando un percorso lo scorso anno, sperimentando il servizio di trasporto cadenzato per le cinque terre. C'è stato sicuramente un risultato positivo, ci sono certamente dei problemi ancora da affrontare, da risolvere, legati ai pendolari e certamente l'atteggiamento della Regione è quello di massima disponibilità per cercare di condividere con il territorio le soluzioni migliori, nella consapevolezza che il nostro ruolo, il nostro dovere è dare risposte ai cittadini. Domani, mercoledì 25 gennaio, nel giorno dell'incontro dei Presidenti delle Regioni con il Ministro dell'Interno in materia di immigrazione, torneranno a riunirsi a Roma in un vertice trilaterale i governatori delle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto. I governatori Roberto Maroni, Giovanni Totti e Luca Zaia torneranno a vedersi nella capitale per rilanciare le proposte contenute sul tema nella carta di Genova sottoscritta a settembre nel capoluogo Ligure. Inizio anno più che amaro per i 30 lavoratori della Marinella S.P.A. che non hanno avuto il pagamento degli stipendi di dicembre. Un duro colpo per i lavoratori e le loro famiglie, già duramente provati da una crisi che va avanti da oltre un anno. Siamo fortemente preoccupati, hanno detto Luca Comiti, segretario Filcams CGL, Walter Bertolini, segretario Fai CISL. La società è in liquidazione. Abbiamo un incontro il 31 gennaio con i vertici aziendali. Il nostro obiettivo è quello di tutelare i lavoratori. Si faccia sentire anche la politica che si era impegnata a dare il proprio contributo al salvataggio dei posti di lavoro, a cominciare dal sindaco di Sarzana, Cavarra. E dopo il primo volantinaggio nei negozi dell'outlet di Brugnato da parte dei sindacati della CGL per denunciare la situazione di sfruttamento a cui sono sottoposti i lavoratori, interviene anche Rifondazione Comunista. Vediamo il servizio. Le immagini sono di Sergio Diofili. Rifondazione Comunista richiene giusta la presa di posizione della CGL Spezzina contro il clima di paura, lo sfruttamento e il pagamento tramite voucher all'interno dell'outlet di Brugnato. Contestato anche il mancato rispetto di orari di lavoro, ferie permessi e riposi settimanali. Quali sono le situazioni in qualche modo che interessano? Interessano sicuramente lo sfruttamento dei lavoratori, come ieri diceva giustamente la CGL, e il pagamento a voucher, che lo riteniamo una situazione grave e inaccettabile. E' anche per questo che sosteneremo la CGL per il referendum per abolire i voucher. Furono i primi, poco dopo l'alluvione del 2011, a prevedere cosa sarebbe successo. Oltre al lavoro precario e alla difficoltà da parte dei lavoratori di far valere i diritti riconosciuti dai propri contratti, anche un'ulteriore cementificazione del territorio. Noi per primi abbiamo denunciato la situazione del lavoro precario già nel 2011, dopo l'alluvione. Denunciamo sia il lavoro precario dei lavoratori e dei lavatrici che sarebbero entrati a lavorare a Shopping, all'outlet di Brugnato, così come denunciamo la speculazione di Lizia e la cementificazione del territorio. Purtroppo avevamo ragione. In molti si avevano definito come il partito del no, il partito che dice sempre di no. Purtroppo avevamo ragione. Si è concluso oggi il primo educational sul turismo dedicato agli operatori alberghieri ed extra alberghieri della città, organizzato dall'assessorato al turismo del comune della Spezia. Un'esperienza da ripetere, le presenze sono state altissime, il livello di gradimento degli operatori ha testimoniato che la proposta andava nella direzione corretta. Lo ha detto l'assessore Luca Erba, che ha proseguito dicendo adesso il percorso non può ritenersi concluso, al contrario abbiamo proposto un educational mirato per la nuova Piazza Verdi. In sala si è colta subito una grande disponibilità ad affrontare un'altra occasione di confronto. Questo è il ruolo che vogliamo svolgere. Ha proseguito un'amministrazione a sostegno e supporto degli operatori di un settore così strategico e delicato, quale il turismo. È partito a Riccò del Golfo Riciclò, un progetto a cura di alcuni volontari che recuperano mobili ed elettrodomestici abbandonati o che devono essere buttati. Lo scopo è sia ecologico che sociale, ma scopriamo di più nel servizio di Laura Ivani e Sergio Diofili. Da qualche settimana è nata a Riccò un'associazione, un gruppo di volontari, Riciclò, che già dal nome tradisce già qual è la sua funzione. Riciclò nasce da una situazione derivante dagli abbandoni stradali. Ci siamo guardati in faccia con alcuni nostri concittadini e ci siamo resi conto che questi materiali potevano essere sia riutilizzati, recuperati e restituiti alla comunità a chi ne avesse bisogno. Riciclò è un connubio tra sociale ed ecologico e funziona così. Hai un oggetto che non serve più, che non utilizzi più, ci contatti e noi diamo nuova vita, una seconda possibilità a oggetti destinati alla discarica. Questo servizio lo forniamo principalmente alle persone anziane, alle persone in difficoltà o alle persone sole, magari anche contattando ACAM direttamente nel caso in cui questi materiali non siano più riutilizzabili. Quindi ci interponiamo anche nei confronti di queste persone e forniamo un servizio di questo tipo. Ecco, questo gruppo di volontari dà una mano concreta al comune di Ricò del Golfo che l'anno scorso ha iniziato il servizio di porta a porta e ha dovuto affrontare di fatto anche un po' la piega degli ingombranti abbandonati. L'abbandono degli ingombranti è una piega di antico tempo e che continuava anche dopo il porta a porta. Noi siamo contenti di vedere un paese più pulito, siamo al 77% adesso per quanto riguarda la differenziata, però lo spirito di Riciclo è quello di contrastare da una parte l'abbandono, di contrastare anche da una parte uno spirito di consumismo che è contrario invece proprio ai fondamentali del porta a porta, cioè di un consapevole utilizzo del prodotto, una consapevole trasformazione, trasformazione che può essere la riduzione indifferenziata piuttosto che un riuso dei prodotti stessi. È chiaro che in più è un'iniziativa della comunità che il comune ha soltanto accolto, quindi non si fa altro che dire ci siamo per quello che possiamo fare per dare una mano ed è come in una battuta che ci siamo scambiati anche con Accame in questo senso, è un pochino l'anticamera di quella che sarà l'area ecologica che sorgerà anche a Riccò e ci sarà uno spazio dedicato proprio a questo servizio. Ricordiamo ai cittadini come possono fare per contattarvi o per chiedere informazioni. Ci possono trovare col numero di telefono che è sui volantini che sono affissi nelle nostre zone a Riccò del Golfo, sulla pagina Facebook e anche come indirizzo mail che sempre trovano sul volantino. Si è concluso ieri sera il concorso dei presepi della Diocesi della Spezia. Grande festa per la premiazione nel Salone Fanelli della Cattedrale alla presenza del Vescovo. Il servizio con le interviste di Italo Lunghi. Anche quest'anno numerosa la partecipazione al concorso diocesano presepi per questa edizione del 2016 nelle tradizionali categorie famiglie, scuole, enti, associazioni, parrocchie. Quindi una partecipazione anche numerosa nonostante qualche problema organizzativo dovuto al fatto che molti iscrivevano i presepi via posta elettronica a una mail che purtroppo è stata dismessa e quindi c'è stato anche qualche inconveniente di cui come organizzazione ci scusiamo. e ci auguriamo anche per il prossimo anno una partecipazione numerosa segno che il presepe come tradizione è più che mai vivo anche in ambienti e luoghi diversi. Io credo che ci sia da parte della data Lighieri c'è stato e ci sarà nel futuro sempre una nostra presenza perché riteniamo opportuno che attraverso il nostro contributo che non può essere altro che dei libri che diamo soprattutto alle scuole che partecipano al concorso dei presepi si pare opportuno che si vada incontro a quelle che sono le nostre tradizioni e le radici del nostro territorio. La Marrocchia di San Lorenzo Martire Porto Venere Primo premio assoluto una bella soddisfazione tanto lavoro ma un significato profondo anche al vostro presepe. Se noi non facessimo il presepe ci mancherebbe un tassello nella nostra vita di quell'anno infatti noi facciamo il presepe da parecchi anni e quest'anno siamo particolarmente orgogliose siamo tutti migranti è una bellissima frase e ovviamente noi ci abbiamo messo il resto. Per la prima volta il premio ad un comune per un motivo bello la promozione della cultura del presepe. Sì, ci abbiamo creduto è una tradizione che non nasce quest'anno era stata interrotta l'abbiamo ripresa c'è stata una grande risposta perché al di là di quello che si è da un punto di vista della fede se uno professa o non professa ma il presepe è un momento di unità e quindi intorno a cui si costruisce la nostra società e viene universalmente riconosciuto. Oltre Centro Presepe hanno partecipato a questo concorso la cultura del presepe è ancora molto presente e lancia dei messaggi precisi. Direi è presente ed è importante è presente ovviamente per chi ha la fede in Cristo perché in questo caso qua veramente riconosce in quel piccolo bambino il figlio di Dio che si fa uomo però è bello anche vedere come questa tradizione continua una tradizione che appunto viene dal passato ma è proprio presente nell'oggi e direi vedendo anche tante giovani generazioni è auspicabile che continui ad essere presente anche nel domani. Domani, mercoledì 25 gennaio dalle 17 alle 19.30 l'alberghiero Casini di Via Fontevivo apre le sue porte agli alunni delle scuole medie e spedine che accompagnati dai familiari potranno partecipare all'open day. Lo scopo dell'incontro è quello di far visitare l'istituto e soprattutto di illustrarne l'offerta formativa gli ospiti saranno seguiti dal team di docenti dell'orientamento coordinati dal responsabile il professor Cristian Biagioni verrà resa nota l'apertura di uno sportello nella scuola per supportare gli studenti nella compilazione dell'iscrizione online al termine sarà offerto un buffet a tutti i presenti preparato dagli allievi. Venerdì 27 gennaio alle 18.30 nei locali del liceo Parentucelle di Sarzana avrà luogo all'interno della proposta dei laboratori di musica integrata dell'Accademia Andrea Bianchi l'incontro con il liutaio di chitarre Piero Guagliumi intitolato Bella e in forma in sei corde si tratta di un laboratorio destinato all'apprendimento delle tecniche di manutenzione della chitarra al fine di poter disporre di uno strumento sempre giovane e in forma spaziando dalla rottura di palette manici, fasce, tavola armonica la routine di bellezza alla quale una chitarra si deve prestare per essere sempre al meglio delle proprie possibilità l'incontro è a ingresso libero e domani, mercoledì 25 gennaio alle 21 l'associazione fotografica Liberi di Vedere ospitata nella sede del centro civico sud del comune organizza un incontro con il fotografo Alberto Ghizzi Panizza grande amante della natura e degli animali precursore della fotografia digitale Ghizzi Panizza è riconosciuto come uno dei migliori fotografi italiani quest'anno per la giornata della memoria uscirà al cinema il nuovo della spezia alla storia di Lerici il viaggio di Fanny vincitore del Giffoni Film Festival un film ispirato a una storia vera che parla di amicizia e libertà sullo sfondo della persecuzione razziale durante la seconda guerra mondiale un raro esempio di film sull'argomento adatti anche per la scuola primaria e secondaria di primo grado dopo domani giovedì 26 alle 18 sarà ospite allo spazio 32 lo scrittore e giornalista Alessandro Zaccuri che presenterà in un dialogo con lo scrittore ed editore Gabriele Dadati il suo ultimo romanzo Lo Spregio l'opera prosegue la personale riflessione dell'autore sul difficile rapporto tra padri e figli già avviata in alcuni romanzi precedenti e apriamo dunque la pagina sportiva parlando dello spezia calcio e per quanto riguarda il mercato l'attaccante Diego Fabbrini classe 90 arriva in maglia bianca con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Birmingham City formazione della seconda serie inglese nativo di Pisa ma cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli nelle prime due stagioni da professionista con la maglia della compagine toscana colleziona oltre 50 presenze che gli consentono di approdare in serie A con i colori dell'Udinese esterno offensivo capace di agire anche come trequartista o seconda punta Fabbrini è capace di sfornare preziosi assist grazie a un piede particolarmente educato tanto da arrivare a vestire anche la maglia della nazionale maggiore indossata nell'agosto del 2012 nell'amichevole disputata contro l'Inghilterra Fabbrini sarà a disposizione di mister Di Carlo già a partire dalla seduta pomeridiana in programma per domani, mercoledì pomeriggio sul terreno del comunale di Follo e compatibilmente con le tempistiche legate ai transfert internazionali l'esecutività del tesseramento sarà formalizzata nei prossimi giorni intanto sono state cedute a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Catellani alla Virtus Entella lo spezia calcio autorizza inoltre l'FC Sud Tirol a cedere con la formula del prestito su prestito le prestazioni sportive del calciatore Patrick Ciurria alla Robur Siena 2014 dal calcio passiamo al basket in serie C Silver Ligure il Sarzana torna alla vittoria dopo la sconfitta nel derby con la Tarros battendo per 80-65 il centro Sestri Levante al Pala Bologna particolarmente festeggiato dopo la lunga assenza dal campo di casa a causa di una frattura la guardia Alessandro Bencaster che sentiamo a fine partita nel servizio di Andrea Catellani vediamo dopo un'apparizione un po' fugace nel triste derby di Spezia con la Tarros questo direi che è stato il tuo vero rientro dopo la lunga assenza che sappiamo cosa dici è andata bene per te e per la squadra? intanto il mio rientro diciamo dopo questo mese e mezzo è stato a piccoli passi nel derby ho avuto un piccolo approccio col campo e questo qui come hai detto te è il rientro ufficiale comunque la squadra diciamo che ha reagito bene alla sconfitta e non lo dimenticherà perché comunque sia la prestazione che abbiamo fatto contro la Tarros ci rimarrà nella mente per arrivare in fondo al campionato e sapere cosa non dobbiamo fare assolutamente mai in campo questa qui penso sia stata una buona risposta da parte di tutto il gruppo e ora proviamo a continuare su questa strada lavorando come abbiamo lavorato questa settimana post sconfitta contro la Tarros forse non sarà facile continuare a lavorare all'acremente perché vi attende peraltro in casa sua l'altra veri big in questo momento del campionato nel senso l'altra delle due squadre avanti a voi dopo aver visitato la Tarros oggi 15 punti di distacco al Seistri ma ora dovete andare a trovare il Cus Genova niente meno là a Genova Sì, Cus è una squadra che in questi anni ha sempre fatto campionati buoni è un bel gruppo, ha esperienza sono ben affiatati e non sarà facile assolutamente vincere nel campo di Genova però ripeto, noi dobbiamo continuare su questa strada crescere mentalmente, crescere fisicamente come gruppo, come individualità e probabilmente la partita di Cus sarà un altro test dove ci metteranno la prova e noi metteremo il meglio in campo per cercare di batterli In chiusura veniamo alle previsioni meteo per la giornata di domani mercoledì 25 gennaio sereno o poco nuvoloso su centro Levante nuvolosità irregolare più compatta sul Ponente possibili deboli nevicate al mattino sui versanti padani anche a basse quote sulla costa soleggiato al mattino sereno al pomeriggio l'umidità si manterrà su valori bassi per quanto riguarda i venti generalmente dai quadranti settentrionali forti o localmente di burrasca su centro o Ponente moderati o forti altrove il mare molto mosso sul Ponente mosso sul Levante le temperature oscilleranno tra una minima di 6 a una massima di 11 gradi e questa era l'ultima notizia vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci e vi ringrazio per l'anima notizia per l'anima notizia grazie a tutti